In questa lotta contro il covid-19 le case di riposo sono obiettivi sensibili che già hanno dimostrato in Italia come sul territorio locale di poter diventare pericolosi focolai. Nel Vallo di Diano, dopo il caso della Fondazione Juventus, ora i riflettori sono tutti puntati su un'altra di queste strutture residenziali, quella ubicata a Padula. Il sindaco Paolo Imparato ha fatto sapere che ora i 15 ospiti più gli operatori verranno sottoposti a tampone per essere sicuri che nessun contagio si sia insinuato all'interno della residenza. L'attenzione sulla casa famiglia Sampio è sorta dopo che il secondo caso positivo riscontrato a Padula, un uomo ricoverato a Potenza, è risultato avere parentele con i titolari della struttura. A seguito di ciò, un'anziana ospite che era stata ricoverata a Polla dopo una caduta, è stata sottoposta a tampone per precauzione, visti i dubbi addensati sia attorno alla struttura da cui proveniva. Il risultato del test è stato negativo per la signora, ma ora è da accertare che l'intera casa di riposo sia al riparo dal contagio. I timori sulla struttura, infatti, si sono accresciuti dopo che dai tamponi eseguiti sui familiari dell'uomo ricoverato a Potenza è emerso ieri che anche la proprietaria della casa famiglia era positiva. Adesso l'Asla sta eseguendo i tamponi, ha detto Imparato, e dentro domani si dovrebbero avere risultati, così avremo un punto fermo e potremo stare tutti più tranquilli. La casa di riposo intanto da ieri è blindata per ordinanza del sindaco, non si può entrare né uscire da essa, anche gli operatori sono al suo interno, tutti in quarantena, ma ciò non toglie che nei giorni scorsi sono tornati regolarmente nelle proprie abitazioni, quindi è necessario chiarire l'intero quadro, anche perché gli operatori provengono anche da comuni limitrofi, quali Sanse e Buon Abitacolo. Intanto la città di Padula nella giornata di ieri ha visto comunque un incremento dei contagi che sono saliti a cinque dopo altri tre casi rilevati, quello della proprietaria della casa San Pio e quelli di altre due persone legate in vario modo al focolaio della fondazione Juventus. Nella giornata di ieri si è registrato anche un altro caso positivo a Polla, mentre migliorano le condizioni del padre e della figlia di Caggiano, ricoverati una a Napoli e l'altra a Polla, che nei giorni scorsi erano stati entrambi estubati.